Due parole su di voi, come vi siete evoluti negli anni, Robiland Associati è conosciuta come agenzia di brand design, corporate identity, packaging. Cos'è Robiland Associati oggi? È una domanda interessante, non semplicissima, perché l'evoluzione continua a cambiare un po' quella che è la nostra storia e il nostro modo di operare. Certamente siamo nati sul design, siamo nati sulla corporate identity e quindi sul lavoro di designer tradizionale. Oggi la nostra azienda è una, noi la definiamo una brand advisory. Noi aiutiamo i nostri clienti a utilizzare al meglio tutto ciò che ha a che vedere col brand. Capite che quando oggi si dice tutto ciò che ha a che vedere col brand, si dice quasi tutto quello che fa l'azienda. Dal prodotto all'innovazione di comunicazione, alla comunicazione banale nel senso di quella più ovvia, alla comunicazione più complessa, al digitale, al prodotto, al packaging, al retail. Oggi anche le risorse umane o alle strategie di posizionamento di un'azienda. Quindi partendo dal brand, o arrivando al brand e poi ripartendo dal brand, oggi l'azienda si occupa di una consulenza molto ampia sulle tante attività che vedono l'azienda confrontarsi con il suo mondo e con i suoi stakeholders. Come vi differenziate rispetto alle altre realtà, diciamo, di simile posizionamento sul mercato? Direi che questa differenziazione è cresciuta negli anni. Inizialmente eravamo uno studio di design, direi anche meno di così, eravamo uno studio di grafici negli anni 70, quando abbiamo cominciato. E quindi dalla grafica si è passato al design, dal design si è passato alla strategia d'impresa. Direi oggi quello che noi facciamo ha a che vedere proprio con un approccio olistico ai bisogni dell'impresa. Credo che molti poi dicono di fare la stessa cosa, il problema è come la fai e sulla base di quali tipi di procedure, processi, metodi e approcci. Noi credo che negli anni abbiamo messo a punto e identificato un approccio molto solido, molto legato alla realtà delle imprese, ma molto tailor made, quindi molto capace di adattarsi di volta in volta alle caratteristiche e alle specifiche delle imprese. Long story short, quello che direi è che noi ci occupiamo oggi di talento, talento delle persone, talento dei sistemi, talento dei processi, talento dei prodotti, in poche parole il talento dell'impresa. Così come negli individui si identifica un talento, noi siamo convinti che questo talento lo si identifichi anche nelle imprese. Questo ci porta quindi a un lavoro maieutico che è indirizzato proprio ad individuare, per quello che dicevo è tailor made, perché ogni impresa ha un set di valori che la rende competitiva, set di valori che spesso l'impresa stessa non ha più molto a fuoco. Quindi uno dei lavori fondamentali che nella fase maieutica noi facciamo è quello di andare a riaccontare all'impresa chi è, quali sono i punti forti della sua unicità. E come dicevo, molto spesso, perché l'abitudine ci fa perdere il senso di quello che noi sappiamo fare, molto spesso le imprese si stupiscono di trovare all'interno di se stessi, o che qualcuno trovi dall'esterno, alcune caratteristiche di cui loro sono consapevoli ma che non usano più come strumento di competizione. Quindi se volete è un piccolo miracolo che avviene su quello che c'è. Poi questo evidentemente viene elaborato e diventa strategia, ma il fondamento del nostro lavoro è un profondo rispetto, ricerca, comprensione ed ascolto di quelle che sono le caratteristiche fondanti di un'impresa, di una marca, di un prodotto. Questo processo maieutico, quindi di rielaborazione dei talenti, delle caratteristiche uniche di un brand, di un'azienda, porta poi anche a iniziative di comunicazione mainstream, diciamo, classiche, di advertising? Cioè vi siete aperti anche a questo mondo della pubblicità classica? Diciamo che, come dicevo all'inizio, la nostra impresa è cresciuta rispondendo agli ampliamenti di bisogno che venivano dai nostri clienti. Non ci immaginavamo in passato di fare tanti dei mestieri che facciamo oggi. Dicevo prima il retail, la comunicazione, le risorse umane. Sì, noi ci occupiamo di comunicazione e facciamo anche comunicazione quella che si chiama above the line. In realtà non ci poniamo in alternativa alle agenzie di comunicazione, non ci interessa essere loro competitors, ma ci interessa corrispondere ai nostri clienti a quel bisogno di continuità che nasce dall'identificazione del valore e del talento di un'impresa e che ovviamente gli chiede e gli porta a chiedere a noi una continuità anche above the line. Questo non succede sempre, né noi lo proponiamo, ma nasce come continuità di profondo rapporto di fiducia che si innesta e che quindi ovviamente fa preferire a loro una richiesta a noi anche di quello piuttosto che dover ritrasferire tutto il lavoro che si è fatto insieme ad un'altra agenzia che deve ricominciare a capire, un lavoro che di solito dura un anno, due, tre anni insieme di comprensione, lavoro, ricerca e affinamento. Quindi c'è un patrimonio condiviso che è difficile poi aver voglia di rimettere in gioco con un altro partner. Questo non è una smaglia di potere o di rapporto totalizzante, però è un po' quello che succede nel momento in cui l'approccio diventa un approccio così tailor made così costruito e pensato in risposta ai potenziali che noi troviamo in quella specifica azienda. Quindi sì, ci capita di fare filmati, ci capita di fare comunicazione. Come dico, non è una nostra ambizione diventare dei comunicatori di quel tipo in senso stretto, però oggi ci sembra che se sei un brand advisor devi sapere giocare e lavorare su tutti gli strumenti di comunicazione. E quindi è giusto che noi ci esponiamo anche a quello. Lo abbiamo fatto inizialmente, abbiamo rischiato anche come sempre si fa in un territorio nuovo. Oggi ci sentiamo fette per fare cose di questo genere, sempre molto in linea con il solco di relazione e di valori che con l'azienda abbiamo costruito. Senta, e nel caso appunto in questo vestito su misura che fate per l'azienda, appunto riteniate necessario introdurre una comunicazione classica, vi rivolgete all'esterno o avete professionisti interni per la creatività o la produzione? Allora, da un punto di vista di creatività, pensiero e strategia abbiamo gente interna. Per quanto riguarda la produzione assolutamente no, quindi ci rivolgiamo a chi fa produzione. Altrettanto vale per i media, non è il nostro territorio e quindi è giusto che il cliente utilizzi i suoi uffici media per fare questo tipo. Quindi la nostra è una continuità di supporto a tutto quello che è il contenuto strategico della comunicazione che ovviamente finisce nei vari touch points e sui vari strumenti. Poi ci fermiamo lì, nel senso che la realizzazione poi la seguiamo ma andiamo a casa di produzione piuttosto che a centri media che gestiscono questo aspetto. Agarghiamo un attimo il discorso. Oggi i modelli di consumo stanno cambiando, tra l'altro il consumatore sempre di più partecipa nell'ideazione dei prodotti dell'azienda attraverso forme di crowdsourcing, ad esempio c'è spesso una presa in carico dei bisogni del consumatore molto diretta e così le aziende, le brave aziende riescono ad avere un ruolo sociale, non solo economico, ma proprio di intercettare i bisogni come diceva lei delle persone. Ecco, le chiedo, in questo contesto di relazioni diverse tra consumatore e azienda, che ruolo ha la comunicazione? Beh, la comunicazione è uno strumento e quindi ha un ruolo fondamentale che è quello di traghettare un messaggio da A a B. Il tema è il contenuto più che lo strumento, quindi sempre più, seguendo quella che era la sua domanda, le aziende hanno bisogno di produrre senso insieme ai loro prodotti o ai loro servizi. Sempre di più i consumatori, gli stakeholders, hanno bisogno di relazionarsi con offerte che siano coerenti con un set di valori che nascono all'interno dei loro bisogni e del loro quadro di valori di riferimento per la loro vita quotidiana. In questo senso noi aiutiamo proprio le aziende a capire qual è la loro vera ragione di stare al mondo, perché un cliente dovrebbe occuparsi di me, perché io ho qualcosa di interessante da offrire, è perché riesco a creare un dialogo, riesco a creare un dialogo perché il valore, il pensiero, le attitudini intorno ai miei prodotti o ai miei servizi corrispondono ad un bisogno che il mercato ha. È vero, bisogna andare a capire i bisogni delle persone e full freedom rispondere, però credo che anche le aziende devono cominciare ad essere autonomamente portatrici di messaggio. Quindi non è una pura risposta a un bisogno di mercato, ma è dare al mercato ciò che si reputa sia oggi un'interessante offerta che quell'azienda con quelle caratteristiche, con quel tipo di prodotto è in grado di offrire perché crede davvero che questo al mercato serve. Il crowdsourcing è molto importante nel dialogo, nella comprensione, nell'ascolto, come dicevo, ma non credo che le aziende debbano essere fatte per rispondere direttamente alle esigenze di chiunque, ma devono, perché hanno trovato un posto al mondo, devono capire perché ci stanno e visto che l'hanno capito poi producono servizi o prodotti che sono coerenti con quella posizione. Senta, l'impatto delle nuove tecnologie sul vostro lavoro e anche sulla progettazione delle proposte, cioè nel senso con le nuove tecnologie riuscite a produrre progetti innovativi rispetto a un tempo? Cosa vuol dire nuove tecnologie? Allora, certamente hanno cambiato molto la nostra vita e il nostro lavoro negli anni 70, l'arrivo del computer portatile ha trasformato completamente questi mestieri e quindi siamo abituati alla tecnologia già da lungo tempo. Certamente le nuove tecnologie, che poi alla fine è la ricchezza di comunicazione che si riesce ad avere in both ways, arricchisce la nostra capacità di leggere il mondo. Un'impresa ha bisogno di capire il proprio contesto. Capire il proprio contesto vuol dire se stessa, i suoi competitors, ma anche naturalmente dove sta andando il mondo, dove sta andando la società. Direi che oggi tutto il mondo di internet ci permette di leggere la realtà con moltissime sfaccettature, a volte anche fin troppo. Ma vi sono strumenti e metodologie che aiutano molto ad arricchire i nostri progetti e le nostre riflessioni grazie ad un'osservazione attenta di quello che succede al mondo. Naturalmente poi è un territorio di comunicazione ed è un territorio di relazione, quindi di una comunicazione più informativa che di tipo pubblicitario, la info communication, che credo prenderà molto sviluppo e che si rafforzerà molto a quella che è l'offerta delle nuove tecnologie, proprio questo rapporto one to one che tu riesci a costruire. E se un'impresa è in grado di promuovere valori di interesse reale, vero, la verità oggi è importante, allora la relazione che internet permette è straordinariamente efficiente ed efficace, così com'è efficiente ed efficace nel cancellare tutto ciò che vero non è. Quindi alle aziende sempre molta attenzione. Oggi la verità è un elemento fondamentale perché al di là dell'aspetto etico della verità c'è un aspetto di controllo che non ti permette più di non essere vero e questo è un fatto molto positivo. Molto interessante questo discorso del riuscire ad adottare di senso la comunicazione e di autenticità perché il problema grosso è che oggi si sta verificando un po' un processo di disintermediazione, cioè che le aziende in qualche modo attraverso internet contattano direttamente il consumatore e a volte si pensa che in qualche modo si metta in forze il ruolo dell'agenzia in questo, non so se è un problema che sentite. Per fortuna nostra è un problema che non sentiamo perché non siamo mai stati direttamente sul fronte di quel tipo di comunicazione a cui lei si riferisce. Proprio perché siamo dalla parte del senso, a noi va benissimo perché è un luogo in cui il senso prende ulteriore vigore. Quindi non lo vediamo come una minaccia ma come una grande opportunità e non avendo basato lo sviluppo della nostra impresa su un impianto che verte sulla comunicazione di tipo tradizionale, il fatto che quella entri in crisi a noi non tocca. È un fenomeno molto interessante e che va capito, insomma adesso è presto per trarre delle conclusioni. È evidente che si sta creando un nuovo modo di comunicare, adesso non voglio dire cose banali, ma che la comunicazione deve riflettere molto su qual è il tipo di relazione che oggi lo stakeholder va cercando.